Io faccio finta di essere in studio e mi metto a disegnare qualcosa qui che è... Quindi mettiamo un po' di musica, perché di solito in studio, senza musica non sai disegnare. No, canti tu. Canto io. Canti tu. Io in genere prendo un documento di Photoshop vuoto e lo vado a riempire. Intanto io spiego perché Stefano ha quello strano guanto. Quello strano guanto serve perché le tavolette hanno il touch e lui si appoggia brutalmente alla tavoletta. Quindi a volte succede che invece di disegnare con la penna, disegni direttamente col polso. Quindi quel guanto isola, imbottito e isola, attaccando dal mignolo, lasciando liberi almeno le altre dita per avere una migliore presa sulla penna, una normale presa sulla penna senza il guanto, isola soltanto il mignolo e tutto il lato della mano che appoggia sullo schermo. In realtà se lo mette perché fa molto figo e quindi in pubblico lo amo. No, lo usa veramente anche in studio. Sì, lo usa veramente anche in studio. Lo usa anche quando disegna a mano, però non imbottito, sottile, per non trascinare la matita e fare tutta una sfumatura involontaria, grigia sul foglio. Vabbè, comunque sia, io direi, io sto disegnando un personaggio di Zanangers che, come tutti sanno... Cosa? No, scusate, lo sto disegnando, Barbara, non mi disturbare. Allora, prego, puoi parlare di Zanangers? Di Zanangers. Allora, Zanangers è l'ultima novità di Zanablu che è uscita quest'anno a Luca Comics. E la parodia di Avengers, come forse si intuisce, anche se si intitola Ham Game, in realtà comprende entrambi gli ultimi due film degli Avengers. Non è soltanto la seconda parte, o la prima. Abbiamo un moderatore. Abbiamo un moderatore, meno male. Scusate, Riccardo, ma qua fuori sono rimasto bloccato tipo 25 minuti qua davanti al cortile. Perché mai? E non lo so, c'era un assemblamento di gente che urlava e... Perché volevano tutti venire qui, ma non lo sapevo. Esatto, esatto. Quindi sono rimasti fuori a intasare il mondo. Esatto. Quindi, considerato che colpevolmente mi sono perso l'inizio, scusatemi. No, non so. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati che non riuscivamo ad attaccare la tavoletta con i metodi classici ai loro schermi, ma abbiamo deciso di proiettare la tavoletta sul monitor. Mi sembra qualcosa di molto sensato. È come quando faxiamo un'email, grosso modo. Benissimo. Benissimo. Cosa che qualcuno fa comunque. Benissimo. E chi stava facendo domande a chi? Ce le stavamo facendo domande. Ci stavamo facendo domande e risposte da soli. E tra l'altro, lui sta disegnando De Retanos e quindi stavamo iniziando a parlare di The Nangers, che è questo... E chi sono io per interrompervi? Il moderatore. Allora, aspetta, vediamo. Le legittime curiosità su... Ho una domanda. Che ne dite se iniziamo a parlare di The Nangers, Ham Game? Che era appunto questo che stavamo facendo. Era una battuta, infatti. Era una battuta. Era per darti là. E io speravo ne parlassi tu, però. Va bene, va bene. Così. Ma sei tu l'autore. Ci abbiamo delle persone. Cioè, voi gli autori. Allora, che stavo dicendo? Quindi, sì. The Nangers. The Nangers è un fumetto autoconclusivo. È forse la 140esima parodia di Zona Blu. Forse un po' meno, ma non lo so. Quando le disegno mi sembrano sempre molte. Che dire? Parliamo a livello dell'ambientazione. Come tutti sanno, The Nangers è la parodia della Justice League. Ovviamente. Lo dice già il nome, voglio dire. Io sto disegnando. Sì, sì. Quindi, ecco, io avevo ricevuto, io avevo ricevuto, bravo, prego. Un applauso al Don. Come al solito. Io spero, sì, sì. Quello non dipende da non aver visto il film. No, non è obbligatorio aver visto il film. Come del resto, tutte le altre parodie della serie di Zona Blu si tengono abbastanza in piedi da sole. Ci può essere magari l'ammiccamento un po' più, qualche battuta quella, un pochino più legata al film. Ma sono veramente poche, non sempre addirittura ci sono. Solitamente le parodie di Zona Blu tendono a prendere l'ambientazione e a grandi linee la storia, molto molto i personaggi, stravolgendoli e ricreando una nuova storia. Quello che solitamente rimane più fedele è l'ambientazione. Quindi, vederla per la prima volta nel fumetto o conoscerla già, rende soltanto un po' più complici chi già le conosce, ma per il resto si segue benissimo e le battute sono completamente slegate dalle storie originali. E poi, perché non aver visto il film? Scusa, Martin Scorsese lo consiglia a tutti e anche Francis Ford Coppola. Ecco. Bene, e invece, visto che si parlava del film di cui Zanegers è parodia, diciamo, mi viene da chiedermi, ma il titolo si riferisce soltanto all'ultima parte dell'epopea di Avengers? Vi siete basati, siete partiti come idea da quella soltanto o anche da ciò che avviene prima? Infinity War. e Endgame, perché fanno una specie di continuum narrativo che, se uno vede Infinity War, ora non lo voglio spoilerare, però finisce che muoiono tutti. Muoiono, anzi. Muoiono, va bene, non muoiono nessuno. Quindi abbiamo creato una macro storia in cui prima succede il corrispettivo di ciò che accade in Infinity War e dopo successivamente il corrispettivo di quello che succede in Endgame, continuo a dire Hamgame, chissà perché. Ma ciò nonostante viene tutto liberamente stravolto nel più classico dei canoni di Zanna Blu. Cioè, va considerato che abbiamo fatto vari corrispettivi dei supereroi Marvel con... vuoi fare un po' di nomi? No, non vuole fare un po' di nomi? Non vuole fare un po' di nomi? Non vuole riposare, scusami. D'altra parte mica stai disegnando, voglio dire. Infatti, anzi, io sono io in multitasking. No, infatti, devo dire per chi non lo sapesse che quando ci siamo incontrati prima e abbiamo concordato un po' le linee guida di questo incontro, Stefano mi aveva detto, bene, mentre io disegno Barbara parla, mentre Barbara colora io parlo. Però io non c'ero quando loro hanno concordato questo, quindi non ero al corrente di questo piccolo particolare. E comunque, in effetti, stavi anticipando un po' quello che volevo chiedere, cioè, dalla copertina che provvedo solo io, perché il pubblico non la vede, si evince già che ci sono una moltitudine di personaggi. No, 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 credevo ci fosse il cavaliere col fumetto. Va bene. No, in effetti no. E ci sono una moltitudine di personaggi che, in effetti, sono la parodia, d'altra parte di questo stiamo parlando, dei supereroi Marvel. Vogliamo provare a raccontare qualcosa di qualcuno di loro? Qual è il vostro preferito? Quello che, a vostro avviso, è il più riuscito? Barbara. Io mi sono innamorata, proprio fisicamente, di Tony Harry Stark. Tutte le volte che lo coloravo ero molto contenta di questa cosa. Stefano è un po' geloso di questo, ma avendolo disegnato lui, se ne è fatto una ragione. Certo, è un vero porco. Invece, per quanto riguarda te, Stefano, mi so che stai disegnando. No, no, ma va benissimo. Io invece provo una profonda sintonia proprio con lo stesso Dele Thanos, perché la sua volontà di schioccare le dita e far sparire metà delle persone, in alcuni momenti viene proprio voglia di farlo. Basterebbe uscire da questa... No, scherzi a parte, è un cattivo non troppo cattivo. Se qualcuno avesse schiocato le dita, io sarei arrivato prima. Ecco, è un cattivo non troppo cattivo, ma mi sembra anche nel film originale che abbia delle intenzioni semplicemente, diciamo, con un criterio tutto suo, però abbia intenzioni fondamentalmente buone, lo faccia con una scarsa lungimiranza, ma con buon cuore. O perlomeno ci vogliono far credere così. Intanto Stefano sta disegnando, sta facendo la parte del nero. Come vedete sotto ha fatto lo schizzo in celeste, su un livello a parte, che poi lo toglie e non si vede più. Perché lo fa celeste, vi chiederete? E io rispondo perché è vecchio, infatti. La matita celeste aveva un senso quando si disegnava su carta e noi, avendo iniziato vent'anni fa, all'inizio disegnavamo su carta. Su carta serviva fare lo schizzo in celeste. Su pergamena. Su pergamena. Anzi, prima sul tavoletta di creta con incisioni, però. Lì non c'era lo schizzo in celeste. Serviva fare lo schizzo in celeste e poi la finitura in grigio, perché la fase successiva era passare allo scanner, o ancora prima la fotopiatrice, ma noi non siamo arrivati così presto. Eravamo già allo scanner. Si passava allo scanner e, passandolo allo scanner a colori, poi si poteva eliminare il canale del celeste, rimaneva il grigio e quello andava via, era pulito senza che si dovesse per forza vedere lo schizzo celeste nella fase 2. Quindi, quando poi si andava a colorare, e quella gialla coloravamo in digitale, però la parte del disegno e della china era fatta a mano, dalla china andava via tutto il celeste sotto. Ora, non ha senso, potrebbe farlo direttamente grigio, potrebbe farlo rosso, potrebbe farlo verde, di che colore gli pare, però ha fatto talmente l'occhio a vedere lo schizzo in celeste. Faccio notare una bizzarria, addirittura ho dato una grana al pennello della matita celeste, proprio perché mi ricorda la grafite, quando in realtà gli strumenti di Photoshop permettono anche un tratto completamente liscio, senza bisogno di simulare quella materialità. Insomma, Stefano è molto abitudinario e, nonostante sia passato a un certo punto della sua vita al digitale... Questo è il modo che utilizzo grossomodo nel mio studio, mi chiedo come mai ci siano tutte queste persone in studio oggi. Nonostante Stefano sia passato al digitale, vuole più possibile avere l'illusione di continuare a disegnare su carta, però con i vantaggi del digitale, ovvero il tasto a nulla. Sì, per esempio, state a vedere, ah ho sbagliato, niente, sparito, magia, ecco, ora io ho detto ah ho sbagliato, poi generalmente quando sono in studio mi lascio sempre più andare, ma qui ho un moderatore, se dicessi altre cose o imprecazione eccetera, mi bacchetterebbe. Assolutamente, sei arrivato giusto in tempo, per fortuna. Acci d'erbolina a questo tratto non mi soddisfa granché, poi qui ho il mio set di pennelli, non so se si vedono set di pennelli, sapete no come è fatto un set di pennelli. Quindi a seconda dell'elemento che stai disegnando cambia anche il pennello? Sì, allora io se sto inchiostrando alla fine ho delle chine, nel senso perché mi simulano grosso modo l'andamento della classica china. La sensibilità alla pressione della penna permette di modulare il tratto, ma non permette degli scaloni così grandi come sto passando adesso dal 10 pixel al 20 pixel, e quindi dovrei premere come un dannato oppure andarci leggerissimo, io tendo a premere come un dannato. E poi graffia la tavoletta, la ricomprata, quindi non conviene. In ogni caso ho mantenuto, ma poi spero che si riesca a vedere, ho mantenuto pur passando al digitale, ora al di là di queste buffe, movenze che faccio con la mano sinistra per spostarmi, ingrandisco, ruoto, eccetera, eccetera, però queste corrispondono a quando avevo il lusso di ruotare il foglio sul tavolo da disegno, un lusso che lavorando in digitale devi solo simulare. Tutto il resto mi sembra ricalchi abbastanza il procedimento classico di disegno, non è come nell'immaginario collettivo di chi non segue molto bene il settore, che pensa che ci sia il pulsante che premi e viene fuori il disegno. Ora, qualcosa c'avevo, perché non so. Ecco, però mi sta incuriosendo. Sì, questo. Però non mi sembra il caso. Vabbè, torniamo alla china. E invece, scusate, ora stavamo andando molto nel tecnico, nel dettaglio, e se invece l'avete detto mentre non c'ero, vi chiedo scusa. Grazie. Zan Rangers, se qualcuno non ha visto il film e non ha ancora detto il fumetto, in poche parole come potrebbe essere riassunto? Barbara. Come potrebbe essere riassunto? Allora, vediamo un po'. Zanna Blu lavora alla Zan Rangers pur non avendo dei particolari superpoteri. In realtà, quasi tutti gli altri fattorini della Zan Rangers... Ma perché? Cos'è la Zan Rangers? La Zan Rangers, appunto, sto arrivando. Chiedo io. È una grande azienda che si occupa di consegnare pacchi. Vagamente ci ricorda Amazon. Consegna pacchi solo quando la merce è difettosa, poi in genere consegna prodotti. Consegna prodotti, sì. Guardate, dopo totte ore di fiera... E quindi... L'ho capita ora, madonna. I supereroi a cosa servono? I loro superpoteri sono molto importanti per rendere le consegne sempre più veloci. Addirittura, con le gemme dell'infimo, riescono a... Che hanno ancora altri poteri, riescono addirittura a far avere la consegna in tempo reale, ovvero appena viene cliccato l'acquisto, arriva direttamente il fattorino col pacco. Un secondo dopo. Questo è quanto, però c'è questo deretanos, che è uno dei fattorini, che si ritrova sempre a essere quello più sovraccaricato dal lavoro, che ha troppe consegne e decide di usare queste gemme, recuperarle, queste gemme dell'infinito, perché scopre questo guanto... Dell'infimo. Dell'infimo. Scusate. Sono già partiti gli avvocati della Marvel. Scopre questo guanto che dà la possibilità di far sparire la metà delle persone, quindi la metà dei clienti, quindi la metà degli ordini. E lui finalmente potrà fare un po' di ferie, perché sta facendo veramente troppi straordinarie e questo dà il via a tutta la storia. Così. Bene. I superpoteri non sono tutto e quindi senza Zanna Blu i supereroi non possono fare molto, si sa che Zanna Blu è sempre qualcosa in più. È anche molto in meno, però questo è un altro problema. A primo acchietto mi sembra di poter dire che rispetto ai vostri soliti albi, rispetto a vostre solite storie, una caratteristica che è comune anche al film da cui siete partiti sia alla moltitudine di protagonisti. Quindi mi chiedo e vi chiedo, cioè vi chiedo, perché io la risposta non la conosco, alcuni di essi sono soltanto, come dire, delle comparse messe lì a fare colore e numero o avete cercato di dare un giusto spazio a ciascuno? Allora, come nel film stesso ci sono personaggi che hanno molta più rilevanza di altri e altri che sono appena, alcuni compaiono appena, alcuni sono un po' più protagonisti, per esempio secondo me in Avengers Tony Stark ha molta più importanza di molti altri personaggi e dovessi dovesse individuare un protagonista in mezzo a quella coralità in Avengers, io ci vedrei Tony Stark. Mi toglie l'anti-alias, intanto che non mi toglie l'amicizia su Facebook, va bene. E anche nel nostro caso abbiamo scelto dei personaggi che portassero un pochino più avanti la storia rispetto a altri, però sì, un po' di spazio ce l'hanno tutti. Ok, e nello specifico dovessi dire quali sono i, tra virgolette, protagonisti di The Avengers, quali sono quei personaggi che, come dicevi, hanno un po' più spazio rispetto agli altri? Beh, De Rethanos è quello che porta avanti tutta la storia, cioè porta avanti il problema Diciamo è l'antagonista. Sì, è l'antagonista, ma è un antagonista che ha un ampio spazio, così come nel film originale. Non ho mai colto l'anti-alias, lo fai sempre qui, come si fa? Va bene, colorerà con l'anti-alias. Colorerà con l'anti-alias. Oh, bene. E niente, devi fare la mia voce perché devi finire il discorso che è a metà. Va bene. Allora, questo te la con il naso qua per me. Intanto vi spiego cos'è appena successo. Io non ho questa voce. Intanto, no. Intanto vi spiego cos'è appena successo. Dal momento che stiamo lavorando come se fossimo nel nostro studio, io, specialmente nell'ultima produzione, io realizzo i disegni e Barbara passa successivamente alla colorazione. Quindi è quello che facciamo adesso. Ho realizzato De Rethanos in bianco e nero e adesso lei si occupa della colorazione. Dicevamo, eravamo rimasti a parlare della storia di Zanagers e quindi eravamo rimasti al punto in cui Barbara diceva che quali personaggi hanno più importanza nella storia? Dicevo, De Rethanos, sì, ma è un'isano. Allora, nella storia ovviamente un ruolo centrale lo ha Zanna Blue perché comunque le parodie di Zanna Blue parlano generalmente di Zanna Blue, però oltre all'antagonista, che essendo l'antagonista quindi è l'altra metà del cielo e è quello che combina la metà dei guai e l'altra metà la combina Zanna Blue, abbiamo un fumetto corale in cui ci sono i vari corrispettivi dei supereroi Marvel e grosso modo i pesi sono simili. Anche perciò un certo rilievo su Tony Harry Stark che è il corrispettivo parodistico di Tony Stark. Ed è il personaggio preferito di Barbara. Il personaggio di cui Barbara è innamorata, me ne farò una ragione. Con le menti. E poi come subito dopo Capitan Amatrician che è il capitano, un capitano che ben tutti conosciamo ma non ci siamo troppo dilungati nel background di questo capitano. Grosso modo si può intuire guardando le sue fattezze a quale capitano potrebbe ispirarsi ma va detto inoltre che essendo Amatrician svolge il suo ruolo patriottico essendo un grande divoratore di specialità tipiche nazionali. Anche se nel fumetto i ruoli di tutti i supereroi non vengono eviscerati più di tanto. Scusami, quando ho trovato il contiguo riesco a colorare? Il contiguo è questo. Ah l'hanno messo qui? Sì sì. Ci sono i disegnini nell'ultimo Photoshop, là è rimasta la versione di Photoshop del 1950. Però non l'hai messo in contiguo perché mi riempie tutto. Ah, da tutti i livelli. Questo, questo, questo. E perché non mi va indietro? Ah, l'altro mi avevi messo. Non so se dal filmato si riesce a capire quanto è divertente il tentativo di Stefano di aiutare Barbara in maniera, come dire, molto cortese, ecco. E paziente soprattutto. Dissimulando il disagio. Allora, concludo. Per quanto riguarda il resto abbiamo un urk, che è insomma quel coso verde, che è grosso e gonfio e verde per via di un'intossicazione alimentare, ma non lo diciamo nel fumetto. Ecco, come dicevo, nel fumetto non abbiamo tanto modo di avviscerare i background dei vari personaggi perché l'azione è molto concitata dall'inizio alla fine e quindi tutto è asservito alla storia principale. Va detto anche che a un certo punto, spoiler, Zanna Blu rivestirà lui stesso dei ruoli più tipici degli altri supereroi. e come farà non si sa, ma ci saranno delle versioni di Zanna Blu a loro volta ispirate ai personaggi. Io lo so. Scusa. Ok, comunque ecco questo è per quanto riguarda il rosa. Questa battuta direi che possiamo chiudere, grazie, è stato un piacere. No, abbiamo 27 minuti addirittura, quindi sbrigate a colorare. Ah però. Vabbè, in 27 minuti si fa tutto il fumetto. E invece Stefano, prima abbiamo saputo appunto di quale personaggio Barbara è invaghita. Per quanto ti riguarda invece dovessi scegliere un personaggio specifico di Zan Angels, qual è il tuo favorito? C'è un solo personaggio femminile da quel punto di vista, però c'è anche Zanna Blu che quando a un certo punto svolge il suo ruolo non è così male. Scherzi a parte, come dicevo, ho proprio una certa sintonia col cattivo, con Dele Thanos, perché ha un piano strano e arzigogolato in mente, e questo mi succede spesso. E poi è un cattivo non troppo cattivo e riesco a mettermi molto bene nei suoi panni. Bene. Ah, e qui questo, quello che sto facendo ora, rivelerà un trucco, ovvero io ora coloro le pietre e le coloro a caso, perché io per tutto il fumetto l'ho colorata a caso, e poi alla fine abbiamo controllato dove era la pietra, di quale colore, a che posto è. Sì, ho passato una giornata a riscorrere tutto il fumetto e a metterla a tinta giusta. E a cambiare i colorini delle pietre. Ma questo si chiama post-produzione. Sì. E quindi io ora sto colorando come ho colorato tutto il fumetto, ovvero a caso. No, utile a tappare i buchi di sceneggiatura finché riusciamo a accorgersene. Poi tutti gli altri tapperanno i nostri lettori dicendo, ah ah, speriamo non ce ne siano, però lo scopriremo solo vivendo. Invece volevo capire un attimino come siete arrivati all'idea di Zanagers, nel senso, ormai è tradizione consolidata che usciate con un volume parodia legato a un prodotto dell'intrattenimento, tanto nessuno mi sta ascoltando. Non ho capito, ma ok. E perché proprio... Esatto, vorrei capire qual è il processo mentale che vi ha portati a scegliere Avengers e non qualcos'altro. Beh, allora, la prima parodia supereroistica che abbiamo fatto è stata nel 2007 Spider-Man e ci siamo resi conto che il tema supereroistico dà tanti, tanti, tanti spunti, ma è anche, come dire, soggetto a essere parodiato. Le parodie supereroistiche sono tantissime. Quindi è un po' Croce e Delizia, un genere che abbiamo provato a tenercene alla larga finché riuscivamo, ma la tentazione era forte. Con l'arrivo di questa, diciamo, bilogia degli ultimi due Avengers, la tentazione era diventata così forte, tanto che era entrato nell'immaginario collettivo, tanto questa cosa dello schiocco di dita e tanto gli incassi al botteghino che ti fanno capire quanto qualcosa sia veramente nel cuore di tutti e a un certo punto la cosa migliore per eliminare le tentazioni è cedervi e abbiamo ceduto. Ma semplicemente perché era in canna da tempo quella di fare una maxiparodia supereroistica è arrivato il momento. Ti ringrazio. Ho una serie di domande legate proprio alla genesi di questo fumetto, però nel frattempo volevo chiedere a Barbara, ma è normale che tu ti avvicini così tanto alla tavoletta? Perché noto la differenza rispetto a Stefano, perché quando era qua Stefano io ti vedevo, adesso io vedo un ammasso di capelli e anche il pubblico, noto dal monitor, ogni tanto vede i tuoi capelli e non la tavoletta. Io sono ingombrante e quindi questo è normale. E poi sono mezza ceca effettivamente. No, allora a me si è allontanata la vista, adesso è avvicinata, ma va detto che quando è in studio si fa il crocchietto e quindi il problema non si pone. Vi bilanciate diciamo, bene, bene. E invece tornando alle domande più serie, diciamo, ti va Stefano di raccontarci un po' come è stata la genesi di questo fumetto? Cioè abbiamo capito come siete arrivati all'idea, quindi ok, avete deciso, ok, sarà Avengers e quindi avete iniziato a scrivere la storia? Allora, la genesi di questo fumetto, devo dirti la verità, è da un bel po' che facciamo parodie, c'è un certo modus operandi e la prima fase è la destrutturazione dell'opera originale nei suoi elementi più... La prima fase è vedersi il film. La prima fase è vedersi il film, va bene, però ecco, questo, oddio, non lo, non so che direbbe Martin Scorsese al riguardo, no, la prima fase è destrutturare la storia nei suoi elementi minimi, come avere un Lego, una costruzione di Lego e ridurla in mattoncini, poi prendere i mattoncini più belli, metterci dei mattoncini nostri e ricostruire da capo secondo un'altra chiave di lettura. L'altra chiave di lettura, in genere, ultimamente, specialmente nell'ultimo periodo, è legata spesso a una nostra visione tutta personale di una satira sociale che ci mettiamo sempre. Ultimamente, proprio negli ultimi due o tre volumi di Zanna Blu, vertiamo parecchio sulle nuove manie dell'ultimo millennio, in cui, nella fattispecie, essendo la Zannanger il corrispettivo di quella grande azienda che inizia per A e finisce per Mazon, da tanto da dissacrare per le nuove abitudini e le nuove aspettative che ci ha creato. Adesso, ultimamente, consegnano anche di domenica e quindi ti devi alzare prestissimo per avere il Corriere quando vorresti magari dormire fino alle 11, ma non ci riesce. Qualcuno di voi non è mai dovuto andare a aprire la porta al Corriere Amazon il fine settimana in pigiama? Tutti, vabbè. Quindi ci sarà un pigiama party in cui metà sono in pigiama e gli altri sono vestiti a Corriere. Ci ho detto, l'ingrediente dei superpoteri, della supereroicità di questi personaggi, l'abbiamo trovato in qualche modo affine a quest'ansia da prestazione che c'è dietro, in questo caso, il commercio online. Perché tutto deve essere più veloce, tutto deve essere più fornito, tutto deve avere tantissime stelle sulle recensioni e così via. E è scattata la scintillina che ha permesso l'ingrediente principale dello stravolgimento e quindi come quando, non lo so, come quando nella mosca, nel film La Mosca c'è Jeff Goldblum da una parte e c'è una mosca dall'altra. Jeff Goldblum non è una mosca, nella mosca è Jeff Goldblum, però riescono in qualche modo a creare questo essere, insomma, questo ibrido e questo essere schifoso, è quello che stavo appunto dicendo. E quindi mettendoci l'ingrediente del commercio online, l'ingrediente supereroistico, così il resto viene da sé. Non so in che altro modo dirlo, perché alla fine è questo, cioè stravolgi, trovi un'altra chiave di lettura, ricostruisci su quella chiave di lettura e viene fuori la parodia stile Zanna Blue. Stefano, una domanda tecnica, secondo te che problema ha questo oggetto con il duplica a livello? Ah, è da che non ci vuole? Deve essere quello, sì. Questo deve pubblicare, perché non trascini. E da lì ora è andata. No, aspetta, innanzitutto... Perché c'hai aperto quello lì? Devi dare il nome a livello? Lei non è abituata a lavorare su due schermi. E ora quindi può... Te l'ho già duplicato. Ok, mi parlava dall'altra parte. Sì, no, 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 allora può sembrare una scenetta di Casa Vianello, un po' lo è. Però... Giuro che poi in studio, confermi Stefano, lo fa davvero lei, non è che in realtà è solo il volto... Lo fa davvero lei su strumenti un po' più obsoleti, però lo fa. Il fatto è che questa è la mia attrezzatura, e l'ho portata qui. Lei ha invece un Mac Mini, è una Sintiq un po' più grossotta, lei lavora su un unico schermo, io lavoro sullo schermo sdoppiato. Abbiamo provato prima a triplicarlo, ma la tecnologia non ci ha voluto bene. Per esempio... Chi è arrivato dopo si è risparmiato una scena pietosa in cui cercavamo di attaccare cavi a caso. Davide poco fa, mi chiedeva perché sto così vicino allo schermo. Appunto, una delle risposte è perché il mio schermo a casa è grosso così. Ma le dimensioni non contano, conta come se e quanto lo usi. In ogni caso, ecco, l'attenuante per la mia collega è che lei è abituata a lavorare su altri strumenti. Da qui tutte le domande su come mai questi nuovi software hanno, a differenza della mia vecchia versione antidiluviana... Bellissima, perfetta, mentre questa non funziona. Sì, quindi sono io l'abitudinario. Fine di Cassavianello, fine dei tecnicismi. Ritorniamo su Zanangers e tutto questo è quello che ho... In realtà è molto interessante quello che hai detto, però quello che mi piaceva, mi faceva piacere chiedere, era proprio se ci racconti un po' la genesi vera e propria. Quindi, ok, siete partiti dall'idea, poi cosa avete fatto? Avete scritto una sinossi, un trattamento... Ah, sì, sì, l'aspetto più tecnico, più contenutistico. Ok, no, mi ricorda tanto... In realtà quello che hai detto è anche molto interessante, quindi grazie per aver risposto a una domanda che non ti ho fatto. Eh, sì, no, no, mi ricorda gli esami dell'università quando improvvisavo davanti al professore. Ok, allora, questa la so, la genesi tecnica di qualsiasi parodia di Zanablu funziona così. Io e Barbara siamo ben divisi sull'aspetto manuale, materiale, disegnatorio, è un neologismo ma l'ho usato lo stesso, tanto si capisce, mentre per quanto riguarda la scrittura siamo molto più amalgamati, nel senso, a livello di soggetto, il brainstorming iniziale lo facciamo completamente all'unisono. Ne parliamo, cioè analizziamo assieme la storia, ne parliamo, selezioniamo i vari concetti per ricostruirla e così via, e poi il soggetto si arricchisce a forza di lavorare da un lato sulla struttura, dall'altro sulle varie gag che ci andiamo a creare. Alla fine viene fuori un trattamento, ovvero la storia di Zanablu, tutta scritta in maniera narrata, prosaica, prosaica, no, non prosaica, in prosa, in prosa, non prosaica, in prosa, e quello è il trattamento. Già lì ci sono tutti gli elementi fondamentali della sceneggiatura, dall'introduzione dei personaggi e setting, primo colpo di scena che dà il via alla storia, punto centrale in cui si stravolge, qui il punto centrale è formidabile, non ve lo voglio spoilerare, ma è bellissimo. Poi colpo di scena finale che manda tutto alla conclusione più degna e naturale delle storie, perché un tempo abbiamo studiato sceneggiatura. Quando tutto è scritto in questo trattamento, scritto proprio a caso, male, con errori d'ortografia d'italiano, congiuntivi sbagliati, eccetera, eccetera, lo prendo, me lo stampo, e poi mi prendo, questa è una cosa che facciamo grosso modo solo noi, una serie di fogli divisi in vignette tutte uguali, perché non è ancora il momento di capire quali vignette saranno grandi, quali vignette saranno piccole, eccetera, e tutto un unico narrativo, abbozzo proprio a matita brutale, in una maniera quasi incomprensibile, le scene direttamente in storyboard. Faccio i dialoghi, grossomodo questo lo faccio io, salvo poi passare il lavoro alla maestra che mi ci mette le notine con la matita rossa, e lì quella è la fase in cui emerge quello che sarà il fumetto finale, vignetta dopo vignetta, inquadratura dopo inquadratura, personaggio interazione dopo interazione, dialoghi arrivano lì. Mi trovo questo, alla fine questo piccolo volumetto di 57 tavole finali, che è Zanengers, ho avuto circa una venticinquina di fogli di storyboard da 12 vignette l'uno. Una volta riletto, corretto, concordato, eccetera, lei si occupa del breakdown, il breakdown è invece la fase in cui tutto questo continuum di vignette viene spartito fra le varie tavole con tante esigenze, delle più disparate, di cui magari vi potrebbe parlare lei, ma lo farà più avanti. Ma devo capire come funziona questo programma. Questo programma veneristico e innovativo. In realtà comunque, scusami ti interrompo, giusto per mettere un po' di pressione a Barbara, abbiamo 10 minuti a Barbara. Basta finito. Ma no, com'è finito? Fagli un po' di luce. Ma dai, fai il più minimo, il più carino. Come più carino? Va benissimo. Penseremmi che il resto del fumetto sia disegnato meglio di così. Dicevamo. Non rovinare la sorpresa. Arrivati a questo, il breakdown, lei si fa in piccolo tutte le tavole, come delle thumbnail, delle thumbnail, in cui ogni singola vignetta acquisisce la sua proporzione, se è larga, tutta pagina, vignettone scontornato. Quando io nella vignettina piccola ci faccio dei panorami a volo d'uccello, in prospettiva a tre punti di fuga, lei me la fa sempre a tutta pagina scontornata, così poi ci posso passare due o tre giorni a disegnarla. Perché io poi mi diverto a passarci due o tre giorni a colorarla. Esatto. Ecco, e questo è, quindi alla fine io cosa ho? Ho lo storyboard, il breakdown, e grazie a questo storyboard e breakdown, lei in digitale, passiamo adesso dal cartaceo al digitale, è il momento in cui prendiamo questa attrezzatura diabolica, la prima fase è la sua, che con programmi vettoriali, lei fa la gabbia vuota della tavola, e ci mette anche i balloon con lettering già fatto. siamo fra i pochissimi che fanno il lettering prima di disegnare, lo so, però ecco, per il nostro modo di lavoro avere il lettering, avere i balloon con già il lettering per me è utile anche per capire gli equilibri della vignetta, perché io ho sempre detto per me un balloon, cioè un coso rotondo, bianco, con le scritte, da un punto di vista grafico ha il suo peso, cioè non posso studiarmi la composizione di una vignetta e poi mi trovo all'improvviso che pa, lì mi viene tutto tappato da un patacco bianco. In realtà questo è un approccio che, come dice oggi, è inusuale, ma oltre a non essere affatto sbagliato è anche l'approccio classico della bandessina franco-belga, per cui i grandi autori di fumetto, perché siamo francesi e non lo sapevamo. Di fumetto per ragazzi da Peio a Franquen hanno sempre fatto così, ma lo stesso Jean-Girot Muebius disegnava i bordi vignette, i balloon, faceva lettering e poi disegnava intorno ai balloon. Quindi a Peio Muebius Denti Blu Va bene, comunque ci ho detto mi ritrovo quindi queste squadrature squadrature in digitale e a questo punto inizia quello che avete visto adesso, ovvero qui l'ho fatto su un foglio ovviamente simulato di carta a quattro quello che invece avete visto adesso lo faccio incasellato già nelle vignette. Questo magari che abbiamo fatto qui per semplicità e per praticità di farlo in questa retta scarsa che c'è dato, è un personaggio a mezzo busto eccetera. La procedura di disegno di personaggi amalgamati nello sfondo quindi insomma nel setting che so Zana Blu dice all'altro personaggio fai questo sullo sfondo città eccetera ecco ha delle criticità particolari come si può intuire specialmente da quando mi è preso un po' il vizio il pallino anche inebriato dagli strumenti digitali di curare molto gli sfondi quando prima scherzato dicevo scherzando la prospettiva volo d'uccello in tre punti di fuga eccetera quando lavoravo su carta era problematico mettere dei punti di fuga uno qua e uno qua se il foglio era questo perché mi facevo tutte le prolunghe di carta facevo un unico grande orizzonte e poi con righe che non arrivavano non potevo divertirmi più di tanto qui abbozzo quello che voglio fare poi i punti di fuga li posso mettere anche lontanissimi tanto è tutto il canvas virtuale di photoshop ditemi se entro troppo nel tecnico e quindi mi permettono di giocarmi le inquadrature come più mi piacciono come più preferisco e mi faccio delle squadre cioè quelle che prima erano delle squadre e le righe di plexiglass per me adesso sono solo le linee guida in un tracciato che mi fanno da punto di riferimento quando voglio realizzare un panorama uno sfondo con una prospettiva coerente a volte veramente mi faccio del male ma quello è ognuno ha il suo pallino e niente e poi niente inchiostratura ma che ora ti va bene o è sempre brutto? non lo so lasciamo decidere loro cosa possiamo andare avanti nella colore abbiamo circa due minuti e mezzo dai allora va bene è bello dai facciamo così firmalo ah lo devi firmare firmalo te dai ho disegnato te io ho un conto nulla colore e basta vai va bene ci scambiamo sì e a questo punto Barbara ma infatti in realtà siamo arrivati alle ultime fasi che competevano Stefano e quindi a quel punto la palla passa di nuovo a te dopo che lui ha disegnato giusto? che cosa dicevi? ho perso il discorso ok mi sa che non ci stavi ascoltando prima Stefano ha molto ben sintetizzato le fasi della lavorazione del volume ed è arrivato fino alla fase di disegno che raccontando un pochino quello che era il suo operato e quindi io direi concludiamo naturalmente con quella che invece è una fase in cui la palla passa nuovamente a te quindi il colore il colore sì il colore l'ho appena fatto è più o meno quello che ho fatto ora e niente lavoro su molti livelli e Stefano si arrabba perché non do i nomi ai livelli e quindi poi quando lui vuole modificare la mia colorazione non li trova forse lo faccio apposta perché non voglio che la modifichi qualcuno si è accorto che ho barato aveva una firma aveva una firma ce l'ha incollata perché Stefano è il bello di lavorare in digitale Stefano un po' sa disegnare ma non sa scrivere quindi incolla le firme non so neanche leggere quindi ma è un problema comune a molti in questo periodo specialmente molto bene molto bene e ci ho detto ce l'abbiamo fatta in tempo vedi bravissimi grazie grazie credo che tecnicamente questo si chiami applauso liberatorio nel senso andatemene esatto ricordiamo soltanto prima di salutare il pubblico che Zanengers così come tutte le altre opere dei Denti Blu si trovano esattamente qua di fronte al padiglione Napoleone al Maxi Stand edizioni BD J-pop Denti Blu e già che ci sono in questo esatto istante ci bilocheremo grazie al fatto che siamo due perché lei resta allo stand io vado alla libreria Ubic in via del Fillungo a presentare anche lì le nostre novità insieme a quelle altre di edizioni Denti Blu grazie mille e buona serata grazie grazie di aver partecipato grazie a tutti 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 grazie a tutti